Adesso stai meglio. Per me era chiusa ogni porta. La mia anima era bendata. Il mio cuore era riarso. Ero solo. Nessuna voce rispondeva alla mia. La mia mano non aveva un appiglio. Le mie labbra non trovavano goccia. I miei occhi frugavano in vano nell'ombra. Ogni luce era spenta e ogni voce taceva. Mi restavano i sogni di notte. Perché adesso stai meglio? Commento. Perché la legge di reincarnazione mi ha spiegato la vita. Grazie a tutti.